Ah, ok. Ciao a tutti, diavoletti. Oggi non mi sento tanto bene. Sapete perché? Sì, perché Anto ha preso fin troppo sole. Eh sì, e guardate la mia testa. È proprio gonfia. Guardate, ho la fronte tutta gonfia. A causa del sole. Quindi adesso mettiamo un po' d'acqua fredda, Anto. Diavoletti, guardate queste foto, guardate queste foto. Oh, ho veramente molta ansia. Cosa succederà? Tranquillo, non succederà niente. Devi calmarti. Vinci, ma quando viene il dottore? Quando viene il dottore? Sta per arrivare e ti porterà una crema. Vinci, non mi sento tanto bene. Mi sento anche di vomitare un po'. Guardate, diavoletti, queste sono delle foto. E qui ho la fronte tutta gonfia a causa del sole. Eh sì, guardate, la fronte è tutta gonfia. È tutta gonfia. Eh sì, guardate. Adesso non mi sento molto bene. Ok, ma adesso devi calmarti. Vinci, guarda questa foto. Guarda. Sì, lo so, ma tranquillo perché non succederà niente. Distenditi. Vinci, guarda. Sono proprio diverso, vero? Sì, ma questo non c'entra niente perché starei di nuovo bene. Diavoletti, guardate il sole. Sono tutto rosso, guardate. Sì, hai preso fin troppo sole. Ma adesso distenditi che mettiamo un po' d'acqua fredda. Ma hai fatto vedere dove siamo, ai diavoletti? Sì, diavoletti, siamo qui. Aspettate. Vinci, mi fa male la testa. Sì, arrivo. Ecco, siamo qui. È qui il sole, è veramente fin troppo forte. Vinci, io sto continuando, sto continuando a scattarmi foto. Dai, non continuare a guardare la tua fronte perché adesso non è in sé. Guarda, è tutta gonfia. La fronte è tutta gonfia. Ma adesso metteremo quest'acqua veramente fredda, così ti sentirai meglio. Vinci, aspetta un'ultima foto, un'ultima foto. Guarda, è tutta gonfia. Ma non devi agitarti, distenditi. Diavoletti, questa foto. Avete visto? Ho la fronte tutta gonfia. Ti distendi? Ok, l'acqua fredda mi fa sentire meglio? Certo che ti farà sentire meglio. Ok. Ok, diavoletti. Vinci mi ha messo dell'acqua fredda, mi sentirò meglio. Come ti senti adesso? Non mi sento molto bene. Ok, ma tranquillo perché sta per arrivare il dottore che ti porterà una crema. Ma questa crema ti farà guarire molto più in fretta. Il dottore, quando arriva il dottore? Non lo so, dovrebbe essere qui a momenti. Oh, quando si sbriga. Vinci, non mi sento molto bene. Ok. Aia, aia, non toccare, non toccare. Ti ho messo dell'acqua fredda. Diavoletti, il sole mi ha fatto gonfiare la fronte. Sì, perché non si deve essere troppo esposti al sole. Quindi sono stato troppo tempo al sole? Sì, fin troppo tempo al sole. Diavoletti, non mettetevi troppo tempo al sole. Ah, perché fa male. Ok, Vinci, vedi come... Com'è la situazione? Sì, sì, va molto meglio. No, non va molto meglio. Dai, continua a metterti questa asciugamano bagnata. Oh, ok. Vinci, questa asciugamano bagnata non sta facendo niente. Voglio il dottore! Sì, sta per arrivare il dottore, aspetta. Vinci, dov'è il dottore? Dov'è il dottore? Sta per arrivare, devi calmarti. Vinci, grazie che mi sei vicino. Aspetta, non toccarmi qui perché anche a me brucia tantissimo. Guardate, diavoletti, ci siamo mustionati. Ma tranquillo perché adesso sta per arrivare il dottore e guarirai molto in fretta. Quando arriva il dottore? Diavoletti, non toccarmi la spalla. Guarda, ho la spalla tutta bruciacchiata. Oh, sì, in effetti, guardate, la spalla di Anto è proprio rossa. Ok, dottore, dai. Quando è che arriva il dottore? Non è ancora qui. Vinci, la mia fronte è sempre uguale? Adesso mi scatto una foto. Anto non può continuare a guardare la sua fronte, quindi... Il dottore! Ok. Il dottore è arrivato? Finalmente qui. Cosa hai portato? Una crema? Devo mettere questa crema? Aloe vera, sì, è ottima. E se non passa? Dottore. Dottore? Ho veramente molta paura. Ok, Anto, ma tranquillo perché questa crema ti farà sentire molto meglio. Ok, diavoletti, adesso mettiamo questa crema. Ma se non si sgonfia, noi dobbiamo andare dal dottore. Guardate, hai la fronte super gonfia. Vinci, basta dirmelo. Ok, ciao, grazie mille. Voleci, presta. Grazie. Thank you. Ok. Diavoletti, mi ha portato questa crema? Io non mi sento molto bene. Allora, vieni qui. Guarda, la mia fronte è tutta gonfia, guarda. Lo so, lo sappiamo tutti. Guarda lo specchio, guarda lo specchio. Diavoletti, la mia fronte è gonfia. Quindi adesso dobbiamo subito usare questa crema. Ok, la metto io. Ok, diavoletti, adesso mettiamo un po' di questa crema. Sta uscendo. Poco, perché ho paura. Ok, adesso mettiamo un po' di questa crema. Ok, diavoletti, poco poco. Mi sento meglio, mi sento meglio. Non mi sento molto bene, Vinci. Speriamo che questa crema mi farà... Chi è? Vinci, adesso chi è che sta bussando? Ok, ha detto che andiamo in clinica. Dobbiamo andare in clinica? Vinci, ho paura, dobbiamo andare dal dottore. Dobbiamo andare dal dottore, deve controllarti, quindi sbrigati. Oh, le pantofole. Aspetta, Vinci, ecco le tue pantofole. Diavoletti, queste sono le pantofole di Vinci. Ok, sto arrivando, sto arrivando. Il dottore deve controllarti, attenzione a non metterti troppo al sole, sbrigati. Diavoletti, adesso stiamo andando dal dottore? Ok, adesso ci metteremo qui seduti. Dai, all'ombra, molto meglio. Ok, e questa persona ci sta portando dal dottore. Ok, Vinci, mi fa male tutta la fronte, mi fa male tutta la fronte. Adesso devi calmarti, stiamo per arrivare dal dottore. Vinci, ho ancora la fronte tutta gonfia, vero? Ok, tutta gonfia. Lo so, ma adesso il dottore ti darà qualcosa di molto efficace, tranquillo. Ok. Ho veramente molta ansia. Adesso il dottore mi controllerà. E ti darà qualcosa di molto efficace. Ok, stiamo arrivando, stiamo arrivando. Diavoletti, stiamo andando all'ospedale in vacanza? Sì. Mi fa male tutta la testa. Ah, ok. Questo è il dottore, guardate. È proprio il dottore. Dai, entra. Ciao, ciao. Buongiorno. Ciao. Ulla. Eh. È successo oggi? Sì. È troppo lontano qui. Sì. È dal sole. Sì. E tonight sarà più peggio. Ha detto che stanotte sarà ancora peggio. Tranquillo, ma adesso sto prendendo qualcosa, credo. Sì, sta prendendo la medicina. Diavoletti, il dottore sta prendendo la medicina. Siamo proprio dal dottore. You need to apply this lotion. Ok. And the cream together, yeah? Ok, quindi devo mettere questo e questo insieme e devo metterlo sulla mia fronte? And this one, yes. Ok, mi sta dando le medicine, guardate. This is for tonight. It will calm the skin. Ok, yes. Diavoletti, devo prendere tutta questa medicina, guardate. Tutta questa medicina, solo perché ho la fronte tutta gonfia a causa del sole. Oh. Ah, mi fa male tutta la fronte. Con queste medicine ti sentirai meglio? Sì, mi sentirò meglio. Ok. Diavoletti, devo prendere tutte queste medicine. Mi sta controllando. Tutto bene? Tutto bene. Ok. Adesso andremo in stanza e mi farò un bel riposino. Sì. Non posso tuffarmi a mare, non posso tuffarmi in piscina. E non puoi esporti un altro po' al sole. No. No sole. No sole? No sole. Ok. No. Non devo mettermi al sole. No, no, no. Ok. Torniamo in stanza? Put the cold towel, yeah? Yeah. The cold towel. Now we put ice. Yeah. We get ice. Arrivederci. Qui c'è del ghiaccio? Sì. Il ghiaccio ti farà sentire molto meglio. Sì. Oh, speriamo Vinci, speriamo che non si gonfie ancora di più. Speriamo che non si gonfie ancora di più. Ah, mi fa male tutto la testa, mi brucia. Adesso stiamo ritornando in stanza e riposerai, va bene? Sì. Ah, Vinci, non toccarmi. Mi brucia tutto la spalla. Oh, you have a cloth or something. Ok, adesso prendiamo un asciugamano per mettere il ghiaccio. Like a comfortable cloth, you can put on the face. Ok, mettiamo del ghiaccio nell'asciugamano. Diavoletti, non mi sento molto bene. This one. Ok, ci stanno aiutando molto, ci stanno aiutando molto. Now we wait until we get cold. When your skin get cold down, you will know. You will feel. Diavoletti, l'asciugamano è troppo fredda e quindi mi fa male. Ok, devo resistere. Sì. Ok, un po' di freddo. Sì, adesso dobbiamo metterlo anche sulla fronte. Sulla fronte? Sì, Anton. Ok, distenditi. Faccio da solo sulla fronte. Anton, non qui, sulla fronte. Dai. Sì, perché adesso tutto il calore si raffredda, in un certo senso. Ok, diavoletti, sto mettendo tutto il ghiaccio sulla fronte. E adesso devo metterlo... Anche qui. Anche sulle spalle? Yeah, here also. Ok. Ah, qui mi fa male molto. Diavoletti, mi sentirò meglio secondo voi domani? Ce lo faccio io? Vinci. Sulla fronte. Con calma, con calma. Ah, mi sento meglio, mi sento meglio. Mi sono bruciacchiato con il sole. Ti sei bruciacchiato. Ti sei bruciacchiato con il sole.